Ci vorranno 24 mesi per le amministrative, poco più di un anno per le regionali. Quale sarà il futuro politico di Messina è tutto da decifrare. Ciò che è certo è che il processo Gettonopoli previsto in autunno e adesso l'operazione Matassa che ha portato agli arresti tra gli altri del consigliere comunale Paolo Davide, dell'ex consigliere Pippo Capurro, sono un duro colpo politico all'immagine di Forza Italia. A Natale la convention del gruppo genovese all'Hotel Royal e l'ufficialità del passaggio dal Partito Democratico a quello di Berlusconi con la benedizione di Gianfranco Micichè. Di mezzo la presentazione del libro di Totò Cuffaro, trasformato in una riunione di partito alla Camera di Commercio e le dichiarazioni di Genovese che ha già ufficializzato il suo no al sostegno al sindaco di Giovanni Ardizzone, esponente dell'Udc e presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Oggi tra Matassa e Gettonopoli il ruolo di Forza Italia, che sembrava destinato politicamente a decollare, visti i nuovi e numerosi ingressi, è messo in un angolo. Il passaggio di testimoni di Accorinti non si presenta così scontato. Tra i consiglieri comunali che dovranno presentarsi in udienza a fine settembre figurano tra gli altri anche i neoforzisti Benedetto Vaccarino, Santi Zuccarello, Nicola Cucinotta e lo stesso Paolo David coinvolto con Capurro nell'operazione Matassa.